in questo video guarda, 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 madonna, guarda, ma non mangio un tagliaunghie non è possibile! molto bene signori miei, ci mancano solo due oggetti ci manca solo la VHS e il motore andiamole a prendere istantaneamente e vediamo di riuscire finalmente a finire sto schifosissimo giocaccio baraga e benvenuti in questo nuovo orribile video oggi signori miei siamo qui per ritentare la fuga dal lato 2 di Granny 5 signori miei spero di riuscirci in questo episodio perché veramente la serie di video su Granny 5 Time to Wake Up sta durando veramente un botto e sta diventando sempre più stressante oltre che intrigante perché sì, la storia di questo gioco comincia a diventare veramente veramente piuttosto intrinseca e intersecata non so se si dice comunque prendiamolo per buono signori miei ovviamente prima della registrazione di questo video c'è tutto un preambolo di ben 47 minuti in cui ho dovuto completare tutto il primo atto del gioco e in cui ho dovuto purtroppo aprire di già alcune stanze come la lavanderia e come la maggior parte se non tutte le stanze che si aprono con la keycard ma non disperate perché durante il gioco ci saranno veramente tante cose da scoprire secondo me dunque signori miei arriviamo almeno a 400 like per il prossimo video di Granny 5 io direi di non perdere troppo tempo dunque proviamo a fare finalmente il check out dall'hotel buona visione ed eccoci qua signori che ci risvegliamo direttamente nella nostra camera d'albergo o forse dovrei dire il nostro appartamentino in centro a Milano direttamente nell'atto 2 ora signori miei vi spoilerò già che ho dovuto aprire alcune stanze come ad esempio la lavanderia e quasi se non tutte le stanze con la keycard comunque non perdiamo tempo e apriamo il nostro pacco di Amazon oh cosa sarà mai ed è la nostra Mystic Cake che apre la porta blu ora signori miei siamo pronti torniamo a dormire e torniamo ad alloggiare purtroppo nell'hotel sporchissimo di Granny Grandpa è della mamma di Slendrina sì perché ho abilitato anche la mamma di Slendrina per questa run andiamo ed eccoci qua signori che ci siamo appena risvegliati nel hotel sporchissimo ora andiamo ad aprire subito la stanza che si apre con questa chiave e vediamo cosa troviamo al suo interno per ora niente per ora niente non troviamo un bel niente comunque è noto che sulla porta serve la Dirty Green Key la Dirty Green Key mi pare di averla vista nel mio preambolo di 47 minuti prima di arrivare in questa situazione quindi torniamo a cercarla perché mi pare di sapere dov'è eccola ovviamente sta già arrivando Granny ovviamente nascondiamoci perché se no ci scarta vetra ai piedi ah no non è Granny sì invece è Granny guarda guardali guardali tutte e due tutte e due le stronzissime madonna guardali guardali signori miei dobbiamo stare veramente attenti in questo episodio perché perdendo adesso vorrebbe dire perdere tutta la partita e come vi ho già preannunciato ho fatto una partita veramente mirabolante perché sono riuscito ad arrivare a questo punto morendo una sola volta ok sembra che io sia riuscito ad attirarle di là quindi è il momento di sgattaiolare al pia perché? perché? fammi andare di sopra ti prego dai dai fatemi tornare di sopra vi prego guardale 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 guarda guarda quella che trapassa le scale guarda che schifo madonna ma poi le scale sono staccate dal muro io me ne sono accorto adesso ma cos'è sto schifo madonna le scale staccate dal muro che schifo disumano che schifo signori miei che schifo ora andiamo a cercare questa benedetta green key e vediamo di oh madonna mia non è possibile io non ne posso più adesso lascio una trappola qua davanti lascio una trappola qua davanti dai vieni vieni sono qua cos'è che fai lì? sono qua sono sono qua oddio con la gobba oddio con la gobba poligonale madonna mia oddio gli sono scomparsi gli occhi prima di morire bruciata oddio speriamo non ci sia anche la mamma di slendrina ad ammazzarci non c'è la mamma di slendrina ad ammazzarci per fortuna ora a questo punto ci serve la dirty green key dov'è la dirty green key? questa non è la dirty green key forse qua dentro nei cessi si perché ho già fatto anche la sguattera ho già lavorato nel mondo delle pulizie e non ho trovato niente neanche dentro i cessi o perlomeno ho trovato il magnetic lock ma quello ci servirà dopo adesso non è utile alla nostra missione qua c'è lo scovolino del cesso si perché non mi sono grattato i piedi come vi ho già detto ho dovuto sturare i cessi manualmente andiamo a cercare sta dirty green key però intanto prendiamo il nostro fucile e sapete già cosa andiamo a fare signora granny stronzissima signora mamma di slendrina morta di sonno perché non venite qua a farvi vedere e a stringermi la mano facciamo conoscenza dai diventiamo amici sono un vostro cliente abituale dell'hotel perché non venite qua oh le cerchie non arrivano le cerchi e non arrivano le cerchie non arrivano ma dov'è che sono oddio oddio stavo per morire per una allucinante stavo per morire veramente per una falconeria per una castroneria cioè stava per venire a tirarmi un ceffone di nascosto di soppiatto ma vedete quanto è buggata sta gente io dico sta gente perché sono tutti estremamente buggati dal primo all'ultimo da grandpa alla mamma di slendrina e a quanto pare anche di slendrina pure se ancora non l'ho incontrata se non pom se non nell'area dove è solito trovare slendrina ora cerchiamo questa accidenti di schifosissima dirty green key che non ho idea di dove sia e onestamente non la sto ancora trovando quindi sono un po' dubbioso su dove si possa trovare allora prendiamo la white key e andiamo ad aprire la stanza della cula di slendrina la white key se non vado errato se non erro se non dico una bigioggeria se non dico una bagioggeria dovrebbe trovarsi in questa posizione ed è proprio qua che si trova infatti ora scendiamo all'ultimo piano e apriamo con la white key la stanza di slendrina la cameretta riservata a quella stronza di slendrina eccola qua che l'abbiamo aperta e qua dentro ovviamente non c'è niente ovviamente non c'è niente ci serve il libro di slendrina ora il libro di slendrina no 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 oddio oddio ma è tutta spixelata è tutta sgranata guardala 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 col col colo tutto storto madonna che schifo madonna che schifezza tutta storta tutta incastrata oddio oddio è tutta incastrata tutta incastonata meglio che ti faccia morire perché se no soffri un po' troppo vediamo se ci riusciamo a farla morire dovrebbe obbligatoriamente passare di qua però deve passare entro un minuto perché se non passa entro un minuto ed eccola qua che la cremiamo viva gli diamo fuoco al rogo come fosse una strega però non possiamo bruciare anche greni a questo punto e la situazione signori miei non è delle migliori oddio guardala guardala che ci guarda così tutta con la testa storta tutta allungata tutta col mento allungato madonna granny vai a quel paese vai a leggere la bibbia granny per favore vai a pregare il padre santo invece che spaccarci i maroni a noi ora il libro di slendrina dove potrebbe essere c'è ancora una cosa che non ho aperto ovvero il cassetto con il magnetic lock quindi prendiamo il magnetic lock che ho prontamente lasciato qua davanti e apriamo il cassetto vediamo se si trova lì il libro spero di sì perché se no non so dove andarlo a trovare qui non c'è il cassetto qui non c'è il cassetto qua neanche ma dov'è il cassetto credo sia questo ok abbiamo trovato il diario di slendrina in cui slendrina scrive le sue guarda 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 madonna guarda mangio un tagliaunghie non è possibile ma come dei quattro sono morto una volta sola no state scherzando come dei quattro situazione molto grave signori miei perché io sono morto una volta sola non due volte io sono morto una volta sola quindi per quale motivo per quale schifosissimo motivo io sono già al dei quattro dovrei essere al dei tre forse non al quattro se la matematica non è un'opinione se Baldis Basics mi ha insegnato bene la matematica no 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 non state capi non no 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 ma non ci provate nemmeno ma non ci dovete provare nemmeno ma veramente ma state scherzando no per fortuna ho preso sotto granny per fortuna ho preso sotto granny dirty green key eccola dove era la dirty green key andiamo ad aprire subito la stanza dell'ufficio ok ok a questo punto ho già trovato il red cog wheel il red cog l'iron krog co cioè sono passato attraverso una porta vabbè e andiamola a infilare in quella sorta di macchinario che si trova qua che è no 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 non puoi fare un vicolo cieco del genere ma questa è una truffa il tape e il green cog wheel ok abbiamo già due pezzi che ci servono per montare la macchina che ancora non ho capito cosa serve dai serve la red key madonna mia che palle vabbè lasciamo tutto qua visto che c'è già un altro pezzo lì qua c'è il tape ora senza morire possibilmente andiamo a prendere la red key che io so già dove si trova la red key si trova di sopra dove c'è tipo la lavanderia il fatto è che ci devo arrivare prima in lavanderia perché se mi ammazzano prima io signori miei sapete cosa faccio io creo un cataclisma mi inc***o così tanto che un uragano di forza 49 si abbatte su questa città e la fa esplodere signori miei oh ok ok no e ho sbagliato ho cliccato il piano 1 e il piano 1 è questo madonna dov'è l'ultimo piano terzo piano ecco vi immaginate che adesso si apre l'ascensore e c'è granny lì davanti che mi aspetta e mi ammazza ti immagini non c'è granny però c'è la tagliola signori miei situazione veramente molto sfavorevole allora la red key dovrebbe trovarsi qua dovrebbe avete capito bene dovrebbe perché mi pareva di averla vista qua la red key ma perché non c'è dov'è ok è qua ok ho trovato red key tra l'altro guardate che non c'è la mamma di slendrina e non c'è la mamma di slendrina slegata perché adesso se ne sta andando a zonzo a spaccarci i maroni a noi forse era meglio che se ne stava di slegata se ne stava lì in catene ora andiamo di sotto con la red key oltretutto qua c'è anche la ex branch molto bene signori miei molto bene buttiamo la ex branch qua di sotto ok adesso ce ne andiamo all'ultimo piano in basso e andiamo ad aprire la stanza con la red key con la red key non red key card che c***o sto dicendo non so più neanch'io cosa sto dicendo sono totalmente fuori di testa sono totalmente sciroccato perché questa situazione mi mette non poco sotto pressione mi mette una no 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 non avete capito io devo girare col fucile ma non mi ricordo dove l'ho lasciato madonna mia che situazione stressante ora red key andiamo ad aprire la stanza dove c'è il macchinario l'archibugio il bligo e andiamo a montare i pezzi nel bligo ok molto bene i pezzi nel bligo vanno qua quindi andiamo a prendere i pezzi che ci sono qua di fuori e cominciamo a montare il bligo quella geggio lì adesso viene rinominato il bligo perché oggettivamente non so a cosa serve non so che cos'è e quindi questo per me è un bligo molto bene ok un pezzo l'abbiamo montato prendiamo anche l'altro cogwheel e montiamo anche quello il nastro adesivo onestamente non so dove vada però attualmente brutta situazione signori miei brutta brutta situazione devo attirarla qua adesso che arriva lascio questa qua davanti e adesso dovrebbe morire bruciata dovrebbe morire bruciata se non muore bruciata mi c***o ok oh you need a key come you need a key che key mi serve scusami boh signori miei cose assurde montiamo anche l'altro pezzo perfetto adesso ci manca il blue cogwheel che se non sbaglio il blue cogwheel si trova nel piano dove ci sono i cessi sporchi di granny quindi andiamolo a prendere e il tape però non mi ricordo dove va forse va nel bligo non mi ricordo proviamo a vedere se va nel bligo prima di andare a prendere il cogwheel blu no qua mi serve la transmission belt qua mi serve il motore che sappiamo tutti dove si trova qua mi serve la ventola e anche la ventola credo di averla trovata se non sbaglio comunque questo lo porto di sopra perché mi pareva servisse di sopra ok dobbiamo andare al piano di sopra a prendere il blue cogwheel il tape lo lascio momentaneamente qui perfetto la musica mi fa intuire che granny sta ballando le sue musiche schifose quindi per ora è distratta almeno che non facciamo casino e non ci viene a cercare cioè dai ma cosa c'ha la vista di un falco madonna come ha fatto a vedermi da così lontano dai su una vecchia che non sta in piedi eppure riesce a vedermi ma non scherziamo ma vediamo di andare a fare i seri vediamo di andare a zappare la terra per favore la mamma di slendrina dovrebbe andare a zappare la terra invece che a spaccarmi i maroni a me comunque montiamo questa geggio qua dentro ok a questo punto qua cos'è che serve screw come screw ah la screw non so dove andarla a trovare screw ah forse la smonto da qua e la metto di dietro ah non lo so signori miei comunque mi serve la chiave esaconale che se non sbaglio si trova al piano superiore dove c'è la lavanderia perché l'abbiamo lanciata là da qualche parte quindi andiamola a recuperare ora io sono convinto che questo qua mi serve di sopra quindi lo prendo e vado a provare no 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 mi nascondo qua dentro che situazione bruttissima signori miei che brutta situazione che brutta situazione ma dov'è no non so dov'è no oddio 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 granny oddio dai ma oh monna mia che stress che stress e io passo di qua così non mi prendi qua c'è solo una uscita puoi entrare solo di qua allora io la chiave esagonale mi pareva di averla tirata qua da qualche parte l'avevo tirata qua la chiave esagonale è qua ok abbiamo la chiave esagonale andiamo di sotto con la chiave esagonale a smontare quella gegge oddio 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 madonna mia ma sale le scale ad una velocità incredibile è disumana madonna se ti sparo adesso madonna cosa ti combino adesso dai vieni vieni oltre vieni vieni madonna mia quanto ti sta bene guarda che ti farei esplodere con una bomba una bomba azzar ti tirerei addosso veramente ex french ora senza morire di tubercolosi andiamo a portare l'ex french di sotto io non devo beccare la mamma di slendrina perché se la becco veramente è finita la mamma di slendrina devo vederla il meno possibile perché è quella più buggata è quella più buggata così non potete entrare madonna vi venisse il cagotto allora smontiamo qua oh madonna mia tre ore con la con l'hexacrew l'hexagon ok eh fai un po' più di casino visto che ci sei eh ma la la screw dove la vado a prendere la vite che ci va qua io dove la vado a prendere there may be an item on top of the one ci potrebbe essere un item da prendere e dove potrei trovarlo l'item scusatemi forse di sopra questo cos'è need transmission belt allora allora senza farci ammazzare andiamo di sopra dove c'è la lavatrice però prima prendiamo il piede di porco e smontiamo la lavatrice come abbiamo fatto la scorsa volta ora se non vado errato se non sbaglio il crowbar è qua di sotto mi pareva di averlo tirato qua prima ok l'abbiamo trovato andiamo a smontare la lavatrice facciamo gli elettricisti e vediamo cosa si nasconde cosa concerne la lavatrice spero qualcosa di interessante oddio granny oddio ma sta camminando contro il muro vabbè rimani lì a camminare contro il muro che è meglio rimani lì a non farti vedere che fai più bella figura need a tape dio need a tape il tape dov'è che l'ho lasciato l'ho lasciato nella stanza dove si accede all'aggeggio di slendrina all'altarino di slendrina schifosa se non sbaglio è qua quella stanza se non vado errato questo gioco è veramente troppo stressante è veramente troppo stressante ok il tape è qua dobbiamo tornare di sopra però dobbiamo tornare di sopra senza farci uccidere chi è ma dai ma esplodi gli sparo gli sparo gli sparo madonna mia granny esplosa guarda quanto ti sta bene ora prendiamo il tape andiamo all'ultimo piano e sostituiamo la cinghia della lavastoviglia della lavatrice di qualunque macchinario esso sia con il tape madonna mia c'è troppo realismo in questo gioco bastava meno realismo veramente non c'era bisogno di fare una cosa così tanto realistica non ce n'era proprio bisogno madonna mia la mamma di slendrina oddio adesso devo cadere di qua questa la devo portare al bligo ma poi è gigante sto posto cioè ci metto le ore a girarlo tutto tutto tempo sprecato tutti i minuti preziosi in cui potrei essere ucciso è qualcosa di incredibile ok abbiamo messo anche questo attualmente cosa ci manca ci manca il motore da mettere qua dietro e la ventola andiamo a prendere il motore sempre all'ultimo piano e andiamola a inserire nell'apposito scomparto io ancora non ho guardato cosa c'è qua comunque direi di andare a mettere anche questa di sotto visto che ci siamo però però mi stanno inseguendo mi stanno inseguendo madonna mia chi è era ovvio la mamma di slendrina c'è anche granny figurati se non c'era anche granny figurati guarda che muore la mamma di slendrina guarda che muore ok una l'abbiamo bruciata l'altra è ancora viva però non è molto bello non è proprio la migliore delle situazioni ok se ne sta andando di là pensando che noi siamo laggi in fondo molto bene per fortuna nostra granny è estremamente stupida andiamo a mettere la ventola ok come scrivo la ex dov'è che l'ho lasciata nida ex branch io ho guardato da una parte e mi diceva che c'era bisogno di una ex branch ah vedi ho smontato le viti e adesso le sto rimontando dentro ok questa è una bella genialata questa posso dire che ve la approvo la cassetta VHS questa la trovo con il libro di slendrina molto bene molto bene signori miei ci mancano solo due oggetti ci manca solo la VHS che spawna con il libro di slendrina e il motore che è all'ultimo piano andiamole a prendere istantaneamente e vediamo di riuscire finalmente a finire sto schifosissimo giocaccio perché veramente non ne posso più sta durando veramente troppi troppi video ah no c'è qualcuno no sta scendendo le scale no 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 quanto scommetti che viene qua quanto scommetti che viene qua a controllare se sono qui quanto ci scommetti io sono pronto a scommetterci madonna le monete d'oro il tesoro dei pirati ti avrei scommesso ti avrei scommesso il tesoro di Jack Sparrow che sarebbe venuta qua madonna ti do fuoco adesso madonna ti do fuoco madonna se non ti do fuoco bruciata viva bruciata viva è tutto quello che ti meriti dobbiamo andare a prendere il motore che è all'ultimo piano oddio c'è Granny oddio c'è Granny attiro Granny lì attiro Granny in quel punto e vado a prendere il motore nella lavanderia di sopra perfetto abbiamo anche il motore siamo in possesso dell'engine lo andiamo a montare e poi ultimiamo il bligo con il VHS ah manca anche il tubo però il tubo lo so dove è dove ci sono i cessi sporchi da pulire il tubo quindi possiamo andarlo a prendere subito c'è qualcuno era ovvio che c'era Granny era ovvio madonna ci avrei scommesso guarda il tesoro dell'amazonia ci avrei scommesso ci avrei scommesso il tesoro dell'amazonia e non prende neanche fuoco non prende neanche fuoco ma perché ti ho messo la trappola esplosiva la trappola è infuocata qua davanti e non prendi fuoco ma sei serio guarda senza parole il tubo dovrebbe essere qua dovrebbe essere qua da qualche parte il tubo mi pareva fosse qua doveva essere qui il tubo perché non c'è eccolo è qua non so perché c'avevo questo flash questo effetto mandela che il tubo si trovava su questo tavolino poligonale esagono irregolare a questo punto dobbiamo provare non dobbiamo provare a fare niente io lascio il tubo qua e me ne vado da un'altra parte anzi sapete cosa faccio vado a prendere il libro di slenderina che si trova qua ok abbiamo il diario di slenderina abbiamo il diario di scuola di slenderina dove slenderina scriveva tutti i suoi amori con i compagni di classe e vabbè dai ma lo fai apposta però e lo fai apposta e lo fai apposta adesso ti brucio adesso ti do fuoco no no basta non funziona più quell'aggeggio è inutile abbiamo deciso in questo momento che quell'aggeggio è inutile non si può utilizzare non funziona più perché eh boh te lo sai abbiamo la cassetta e vabbè e vabbè e vabbè neanche il tempo di vedere cosa succede che ci sono ste bastarde maledette andiamo a montare la cassetta dopodiché ci mancherà solo il tubo signori miei solo il tubo ci separa dalla vittoria dalla gloria dalla riuscita di questa missione impossibile cassetta vhs il tubo il tubo va messo qua manca solo il tubo devo prenderlo quel tubo ce la devo fare ma perché io sento i passi e non ci sono e poi quando non sento i passi si palesano ma che schifo è ma chi l'ha ideato sto gioco di obò l'ha ideato un serpente un serpente maledetto un serpente morto guardala guardala che è già qui guardala nonostante diobono mi abbia inseguito per tutto l'hotel per tre quarti d'ora è già qui ma non è possibile madonna adesso io mi nascondo qua dentro mi nascondo qua dentro dai almeno una si brucerà almeno una si brucerà ok una si è bruciata l'altra però è ancora viva e adesso rimane lì così madonna guarda caso era proprio la mamma di slendrina la più buggata del gruppo e meno male che grandpa se la sta dormendo perché se ci fosse pure lui signori miei non so quanto saremmo riusciti a fare con il sergente in giro madonna mia ma cioè se voi dovete aggiungere i personaggi in un gioco almeno aggiungeteli bene aggiungeteli funzionanti non che fanno ste schifezze madonna che attraversano i muri ti ammazzano in delle maniere indecenti non si fa così non è questo il modo giusto per fare un gioco i giochi si fanno in maniera diversa cioè se io commissionavo il mio falegname sporco in pensione da 63 anni a fare questo gioco con 4 lire con 4 lire turche l'avrebbe fatto meglio sarebbe uscito senza bug o perlomeno non con così tanti bug cioè guarda sta scala madonna è staccata dal muro ma come si fa a concepire una schifezza del genere un putridume un gioco lercio comunque momento emozionante perché abbiamo preso il tubo lo vado a montare e vediamo finalmente a cosa serve quel bligo sigilliamo la porta inseriamo il tubo nel bligo ma cos'è l'asciugacapelli di un parrucchiere cos'è che quindi cosa perché sono in un bosco ma cos'è il bosco dello slenderman oddio che cos'è è il teddy oh my god you were good challenges well let me give you another one no cosa 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 lull this was not surprising I assumed you couldn't handle this challenge well looks like it's time to end the research in other words it's time to wake up also this is not the end of the tape but the best thing to do would be to win everything right now what the hell was that mi sono svegliato mi sono svegliato mi sono svegliato dall'incubo era solo un esperimento cosa era solo una simulazione era solo un gioco non era reale no cosa sta succedendo oddio il sergente come finale numero uno ci sono altri possibili finali e quali sarebbero signori miei sono completamente senza parole già che siamo riusciti a completare il gioco sono senza parole ma questo finale mi ha lasciato veramente a bocca asciutta mi ha lasciato disidratato signori miei una cosa assolutamente inaspettata granny è tutta una simulazione è tutto un gioco in realtà virtuale è tutto in VR l'Oculus Rift comunque signori miei a parte gli scherzi veramente a parte i bug e tutte le schifezze trovate durante il gioco la trama e la storia a parer mio sono fatte veramente molto bene vanno un po' contro quella che potrebbe essere la filosofia di developer ovvero l'autore originale del gioco perché gli altri capitoli sono stati tutti sviluppati in un singolo atto e soprattutto non con una storia così complessa dietro ma comunque rivoluzionare la storia di Granny in questa maniera signori miei secondo me è stata veramente una genialata comunque alla fine del gioco siamo riusciti a capire che ci sono addirittura altri due possibili finali quindi non ci resta che scoprire quali sono lasciate un commento con cosa ne pensate di questo video assolutamente incredibile e orribile e soprattutto scrivetemi se volete che io provi a finire il gioco anche negli altri due possibili finali mi raccomando arriviamo almeno a 400 like per il prossimo video di Granny e soprattutto non dimenticate di iscrivervi a questo orribile canale io vi saluto e ci si becca al prossimo video addios grazie a tutti